parte il pallone dentro una mischia lontana la difesa poi Verón mette via il pallone Adriano contropiede uno contro due attenzione all'imperatore salta il primo attenzione è uno contro uno attenzione è uno contro uno attenzione cerca di saltarlo non salta arriva al secondo il tiro è gol 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 ma che gol ha fatto Minuto 11 Guardate che azione, guardate Prende palla, si beve Bertotto Va uno contro uno Lo va Lo mette a sedere, mette a sedere il secondo Incrocia E Nessantis può solo raccogliere Tutti i piedi anche a casa L'imperatore ne ha già fatti due E siamo a quota 5